Ciao a tutti, fantastica giornata qui a Tinan. Come vedete la madre della mia ragazza mi ha preparato dei fantastici ravioli giganti e me li ha fatti arrivare direttamente dalla campagna. Tuttavia questi ravioli sono ancora freddi e quindi io dovrò andare a scaldarli. E già che ci sono ne approfitto per presentarvi uno strumento che quasi sicuramente farà parte della vostra vita qui in Cina. E niente, quindi meno chiacchiere e andiamo subito a scaldare questi ravioli. Ecco, allora in pratica lo strumento che volevo presentarvi oggi è questo, che è una sorta di pentola elettrica. Come vedete qua si apre e dentro c'è tipo una sorta di contenitore con dell'acqua che ho versato prima. Allora diciamo che questo qua si usa principalmente per fare il riso bianco, però se si aggiunge questo oggetto qua possiamo metterci sopra appunto i miei ravioli e i ravioli verranno cotti al vapore. Quindi adesso ci versiamo dentro i ravioli. Ok. Poi dopo chiudiamo. Attacchiamo la spina. Ok. Ok, bene. Ecco, poi come si usa? Allora, questo è un modello piuttosto semplice, perché come vedete qui c'è conservare il calore, se invece faccio così scalda o appunto bolli. E in pratica basta aspettare tipo una decina di minuti e i miei ravioli saranno pronti. Quindi, vabbè, tagliamo il video. E niente, a giudicare dal profumino che emana, sembra tanto che questi ravioli siano pronti. Vediamo un attimo. Mmm, sì sì, mi sembrano pronti. E va bene, allora dunque, senza scottarci, dobbiamo prendere questo coso di plastica. Se ce la facciamo, se ce la facciamo. Ok, così. Ah, uh, 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 veloce, veloce. Ah, ok. Questo lo rimettiamo qua sopra. Spegniamo sta roba. Anzi, stacchiamo la spina direttamente. Bacchette. Ok, e andiamo a mangiarci i nostri bei ravioli. Ci vediamo tra poco. Ed eccoci finalmente ai nostri ravioli. Allora, io come al solito consiglio di accompagnarli con il mì tù, che in pratica è aceto di riso. Ne ho già parlato anche in altri video dove mangio ravioli. Se ne versa un pochettino in una scodella a parte, così. Non so se lo vedete. Ok. E niente, possiamo cominciare a mangiare questi ravioli. Oh, finalmente. Guardate che roba. Cioè, io ho detto che sono giganti, ma guardate la mia mano. Cioè, io di solito quando vado fuori a mangiare, non sono così grandi. E vabbè, niente, in pratica si puccia e se ne mangia una parte. Mmm. E questo è il ripieno. Ecco, si sta un po' spaccando anche. Mmm. Buono. Mmm. Tra parentesi, ripieno. Allora, il ripieno di questi fagioli, eh, fagioli, buonanotte. Il ripieno di questi ravioli è carne di maiale e poi c'è anche una verdurina. Vedete, no? Aspettate che vengo lì quasi, quasi. Vedete? C'è la carne di maiale e poi c'è tipo una specie di verdurina. Sta inquadrando, sì, no, chi lo sa. Vabbè, c'è una verdurina. In pratica questa verdura si chiama ziyotai. E in pratica è una... Mmm. Scusate. Stavo dicendo. In pratica questo ziyotai sarebbe una sorta di aglio cinese. Anzi, forse è meglio dire... Erba cipollina cinese. Cinese. E' proprio... Non è come l'erba cipollina italiana. E' un po' diversa. Il suo nome... Il suo nome scientifico, quindi il nome latino, Dovrebbe essere Allium tuberorum. Tuberum. Non lo so. Allium tuberum, forse. Non sono sicuro. Al massimo vi metterò il nome là sotto. Mmm. Mamma mia che buoni. La madre della mia ragazza, che abita in campagna, fa dei ravioli stupendi. Tra l'altro, cioè, sottolineo, li ha fatti lei con farina, acqua, sale. Cioè, si è messa lei a fare tutto. Non è che li ha comprati. Mmm. Tra parentesi. Ehm... Perché io li ho scaldati col vapore e non con l'acqua bollente? Ecco, questa può essere una domanda interessante. Mmm. In pratica, questi, essendo già stati cotti, se li avessi scaldati con l'acqua bollente, sarebbero diventati scotti, cioè nel senso mollicci, che si rompono facilmente. Invece scaldandoli col vapore, hanno mantenuto una consistenza ancora abbastanza fresca, diciamo, no? Ecco. Se invece li avessi scaldati in acqua bollente, adesso sarebbero tutti quanti che si spattolano, no? Non so se avete presente. E quindi, se vi capita di scaldare dei ravioli, vi consiglio di farlo col vapore. Mmm. Adesso, io l'ho fatto con questa pentola. Poi però comunque voi potete farlo in diversi modi. Non mi avete detto che mi era finito un pezzo di erba cipollina cinese tra i denti, che mi faceva quasi sembrare sdentato, e invece, ah, i denti ce li ho ancora tutti. Pensavate male. E, vabbè, niente. Stavo dicendo, allora, questo non è stato un video tutorial su come fare i ravioli cinesi fatti in casa. Quello arriverà, ve lo prometto. Mmm. Perché comunque, ci sono stati molti messaggi e commenti da parte di persone che mi chiedevano, eh, ma perché non fare un video tutorial sui ravioli cinesi fatti in casa? Lo farò, ve lo prometto. Però al momento non sono nella condizione di poterlo fare. Cioè, nel senso, qui in collegia non è che posso mettermi a fare i ravioli fatti in casa con la farina, l'acqua, il sale. Cioè, non posso. Però, quando avrò una casa mia, ve lo prometto, farò un video tutorial su come fare questi ravioli cinesi. Mmm. Per ora, accontentatevi di questo video tutorial su come scaldare i ravioli cinesi fatti da vostra suocera e mangiarseli. Mmm. Davvero buoni. Mmm. E vabbè, niente, ormai il video lo sto già tirando per le lunghe, quindi la chiudo qua. Fantastica giornata qui a Tinan. Ravioli cinesi giganti. fatti in casa dalla madre della mia ragazza cinese, anche lei, che vive in campagna. E, niente, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Se vi interessa continuare a seguire la mia vita in Cina, mi raccomando, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo qui per un prossimo video dalla Cina. Ciao ciao! Ciao!